Amici telespettatori, ospite oggi del nostro programma è Monsignor Tonino Cavizzoso, docente di storia della Chiesa, Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, direttore dell'archivio di Ocesano di Cagliari e autore di numerosi saggi di storia della Chiesa moderna, soprattutto nel rapporto società e Chiesa in Sardegna negli ultimi 200 anni. Monsignor Cavizzoso, a proposito di Chiesa in Sardegna, rapporti Chiesa-Società. Così, girando un po' per la storia di questa Chiesa nostra sarda, abbiamo visto che negli ultimi 120 anni circa sono sorte 16 nuove congregazioni religiose, poi alcuni istituti secolari, abbiamo avuto tre beati negli ultimi 120 anni, diverse richieste per l'apertura di processo di beatificazione. Insomma, c'è una spiegazione sociologica e storica di questo proliferare di santità in Sardegna? Certamente esiste una risposta di natura storica e un'altra sociologica, ma io direi che la cosa più bella è che tutto questo insieme esprime la vivacità della Chiesa sarda, anche se è una vivacità che talvolta non è appariscente, è nel silenzio. Allora, storicamente, cosa vuol dire la fondazione di queste 16 congregazioni? Sono da leggere all'interno di quelle ondate successive che nel corso della storia della Chiesa, a iniziare dai monaci basiliani, dagli eremiti, dai cenobitti, poi ancora nel 1100 tutto il prolificare di ordini cavallereschi, poi dopo il concilio di Trento, i grandi ordini religiosi, poi ancora nell'Ottocento e anche nel piccolo, in Sardegna, queste 16 congregazioni sono da collegare a quell'ondata, a quelle ondate successive che costituiscono storicamente dei punti fermi, ma che nascono per questioni di natura sociale. Ecco il rapporto Chiesa-Società, molto accentuato nell'isola. Vale a dire che padre Vicco, in gallura, ha visto che i pastori dovevano essere evangelizzati ed ecco che fonda la suora evangelizzatrice. Agostina De Muru nell'Ogliastra, che cammina come maestrina a piedi da un paese all'altro e che fonda un istituto secolare tuttora vivo, anche se numericamente ristretto, per dare delle risposte concrete al territorio, come Don Livio Urru in Barbaggia, come padre Manzella nel Sassarese, Virgilio Angioni nel Cagliaritano. Ascolti, però colpisce in questo fatto, in questa proliferazione di istituti e congregazioni religiose che vogliono dare, come ha detto lei, una risposta ai bisogni della società. Tratto che questa società sarda sia abbastanza violenta. Sequestri di persona, faide, vendette, omicidi, omicidi. Insomma, eppure riesce ad esprimere tre beati che riesce ad esprimere queste persone che è così impegnate nel campo sociale. Una santità itinerante in cammino. Come mai? Lo storico della Chiesa non si meraviglia di nulla, perché sa che grano e zizzania coesistono. E il Vangelo. Per cui esiste santità ed espressioni molto belle di questa santità in Sardegna e anche violenza. Focalizziamo il Nuorese. E appunto, focalizziamo. Focalizziamo proprio il Nuorese, dove è maggiore l'espressione della santità con figure come Antonia Mesina, Gabriella Sagheddu, e tutto un insieme di laicato che nell'azione cattolica ha espresso figure eccellenti. Eppure, nello stesso tempo, in quella società coesistono sacche di violenza molto forti. Io in questo momento sto pensando a quella famosa tesi di Domenico Argiolas sulla evangelizzazione della barbaggia. E quell'autore dice che probabilmente Cristo non è ancora arrivato in barbaggia. Lei è d'accordo su questo? E' una tesi estrema, però ha un fondo di verità. Non è che sia d'accordo, ma io sono più d'accordo con la visione evangelica, che coesistono, che coesistono insieme la santità con la violenza. Ma la santità deve risplendere sulla violenza. La violenza a sua volta deve essere arginata con una Chiesa sempre più dinamica e vivace. Ascolti, lei in un recente saggio ha scritto I santi sono coloro che meglio dei vescovi, dei preti e dei religiosi hanno saputo gettare un ponte ideale tra Chiesa e società sarda, facendo proprio i problemi della gente, rimboccandosi le mani e indicando valori molto alti. Adesso mi faccia... Ne sono più che convinto. Attenzione, io dico che i santi costituiscono un ponte ideale tra Chiesa e società, più dei preti e dei vescovi. I vescovi e dei religiosi. E certo, certo, tutto l'insieme. Perché l'espressione più alta della storia della Chiesa è la santità. Alla fine tutto finirà, ma rimane il progetto di carità vissuto da questi santi. Ecco, lei conosce bene tutti i santi di quest'ultimo secolo. E allora mi puoi dire la lezione di Frannicola che è superiore a quella dei preti, dei vescovi e dei religiosi? Ecco, secondo me la lezione è questa qui. Nella Cagliari del dopoguerra, in una città distrutta, in una città bombardata, Frannicola camminando nelle rovine, nei vicoli della città, esprimeva speranza. Non solo speranza, perché questo è il discorso finale della Chiesa nel mondo, ma anche dava una risposta di radicalità evangelica. E' la stessa risposta che ha dato Fra Nazareno e che sta dando Fra Lorenzo. Ascolti, Rupo, e invece Antonia Mesina, la lezione di Antonia Mesina in quegli anni? Ecco, io credo che di Antonia Mesina ce ne siano tante, che non sia l'unico caso nella storia della Chiesa. Perché esemplare? Perché veramente la nostra società sta camminando verso orizzonti che pongono delle inquietudini. Questa ragazza in un paese isolato come Orgosolo, nel 35, sotto il fascismo, che vive con radicalità evangelica l'adesione all'azione cattolica. Vale a dire che anche nel piccolo la Chiesa può esprimere delle figure eccellenti e Antonia Mesina diventa un modello per insegnare che ci sono valori ben più alti del corpo e della sessualità malintesa. Ascolti, ha detto bene, lei sono d'accordo con lei, quando dice di figure, di ragazze come Antonia Mesina, ce n'erano in quel tempo e ce ne sono ancora oggi inserite. Qualcuno dice, quando è arrivata la notizia che il Papa avrebbe beatificato Antonia Mesina, dice che il Papa Giovanni Paolo II intendeva proporre ai giovani dei nostri tempi un valore e una figura che portava il valore della verginità in tempi in cui qualcuno la mette in discussione. Lei è d'accordo con questo? Sono d'accordo. In Giovanni Paolo II sono state fatte delle scelte molto chiare che partivano da principi molto importanti. Indicare questi modelli in modo tale che a questa gioventù che è un po' allo sfascio, una gioventù che non vive certi valori, gli si possa aprire gli occhi e dire guardate che ci sono dimensioni ben più alte. Ma la stessa cosa è il discorso anche dei genitori di Paolino Beltrame Quattrocchi. Padre e madre, per indicare che il nucleo familiare può esprimere santità. Oppure i genitori anche di Teresina del Bambì Gesù, i coniugi Martin. Sono delle scelte, tra virgolette, di natura politica, ma che di politica, che è una politica alta. Ascolti, lei prima accennava Fra Nazareno da Pula, cioè Monsignor Alberti prima di andare via dalla diocese di Cagliari ha dato il via, ha istituito il tribunale per la causa di beatificazione. Però la figura di Fra Nazareno da Pula, che lei la conosce benissimo, è un po' di scusa, non la sua santità, ma che sia uno santo come Fra Nicola, qualcuno dice che è un paragone impossibile. Lei, da storico, anche se non ha ancora il materiale sotto mano, cosa ne dici? Io vedo un aspetto molto bello, è la santità dei laici capuccini, a partire dal 700, 800, 900. Più che focalizzare Fra Nazareno, io guarderei questo messaggio che viene da Fratelli Laici che dà una lezione anche ai religiosi, ai sacerdoti, ai vescovi. Ascolti, parliamo di un altro argomento. Lei da alcuni anni, forse da una decina d'anni, si è dedicato a un filone importante di studi, cioè i vescovi sardi al Concilio Vaticano II. Che cosa hanno fatto? Come si sono comportati mezzo a 3.000 vescovi? Ecco, come si sono comportati i vescovi sardi lì? Soprattutto come hanno preparato le diocesi al Concilio? Che idee avevano loro, partendo dalla Sardegna e andando a questo concilio che per loro, come per molti, era un salto nel vuoto? I vescovi sardi erano, come tutti gli altri vescovi dell'Italia e di altre parti del mondo, impreparati ad un evento così grande. Per cui sono cresciuti in itinere, come si suol dire. Non hanno prodotto i vescovi sardi un pensiero teologico autonomo, originale. Hanno vissuto di rendita. E diciamo che i loro interventi per lo più sono da leggere all'interno dell'ecclesiologia tridentina. Due sono da ricordare. E' un giudizio un po' severo. No, no, è severo, ma è reale. Basta esaminare tutto ciò che i vescovi hanno scritto nella fase antepreparatoria. I consigli a Etevotta, che costituiscono la parte più preponderante e più lunga. Saba ha scritto tantissime pagine. Mela, Stedde, Cogoni di Ozieri. E lì l'ecclesiologia è tridentina. Invece due eccellono tra i vescovi sardi. Uno è Spanedda, che faceva parte della commissione teologica. E' veramente il teologo sardo, quello che più si è distinto. E l'altro vescovo, stranissimo, nonostante l'età, Monsignor Pirastru di Iglesias, che nei consigli a Etevotta chiede che le congregazioni romane interferiscano meno nella vita delle chiese locali, che si cresca nella collegialità, per cui i vescovi della regione non devono lavorare sotto il proprio campanile, indipendenti uno dall'altro, ma collegialmente. E' l'idea vincente. Terzo, terza idea, che si focalizzi la degnità della persona umana e della libertà di ognuno, sono le idee vincenti, l'anziano presule d'Iglesias. Forse perché c'era un'ecclesiologia tridentina, che poi il posto concilio ha faticato ad affermarsi in Sardegna. No, no, attenzione, non solo in Sardegna, un po' dappertutto il posto concilio è stato un po' travagliato. Certo, la liturgia è stata accolta subito. Imposta. Il popolo, beh, imposta, ma anche il popolo aveva bisogno, per cui l'accolta con una certa gioia. Invece le altre idee hanno faticato, vale a dire i consigli pastorali, i consigli presbiterali, il valore del laicato, i laici sempre più autonomi. Questo è un problema, quanto l'abbia inciso l'ecclesiologia del Vaticano sul secondo, sulla Chiesa Sarda, questo è un discorso aperto. Secondo me bisognerebbe studiare a lungo i settimanali diocesani, in un modo analittico. Ascolti, torniamo sempre a questo problema dei vescovi sardi. Cioè, hanno faticato a realizzare un po' i detami, le norme conciliari, i suggerimenti del concilio. Tuttavia, la seconda generazione di vescovi, dopo i primi che hanno partecipato al concilio, qualche tentativo, un po' l'hanno fatto, però anche loro avevano molta paura di realizzare la lettera del concilio. perché è questo? Anche se, io penso che quando un vescovo è il vescovo, è re nella sua diocesi, cioè è papa nella sua diocesi. Perché? Io direi che è servo, non è né re né papa. Papa nel senso che ha un potere legislativo. Però quel potere deve essere vissuto in una visione ecclesiale di servizio. Questo è difficile. Comunque, io sono di questo parere che il concilio abbia faticato molto nella chiesa sarda ad entrare. solo con i tempi lunghi certe idee si stanno sedimentando. E noi che siamo dati dopo questa, cioè noi che siamo figli di questo evento, li abbiamo respirati e li cerchiamo di viverli. Il grande problema invece della chiesa sarda è il fallimento del concilio plenario sardo. Mi spiego. Non è che il concilio abbia fallito. È stata un'esperienza molto felice anche se lunga. I documenti sono molto positivi però di fatto sono dimenticati. Di fatto non vengono. Questo secondo me è un mea culpa fortissimo che la chiesa sarda deve fare. Secondo lei perché non è stato affatto? Perché è finito? I documenti sono finiti nella libreria. Io da storico vedo che tutti i sinodi si fa tanto per celebrarli e subito dopo vengono dimenticati. in Sardegna il sinodo di Alghero il sinodo dei Sassari il sinodo di Nuoro nessuno li ricorda. Il sinodo di Cagliari. Il sinodo di Cagliari. Giusto, giusto, giustissimo. Ora noi abbiamo questi documenti del Vaticano del concilio plenario che costituiscono una magna carta una legge costituzionale eccellente. Dobbiamo riscoprirli e valorizzarli invece purtroppo questo forse con responsabilità di vescovi di preti e di laici questo non sta avvenendo. È la bella addormentata questa chiesa. qualche prete ha detto il concilio è una bella addormentata. Ascolti, lei è anche direttore dell'archivio diocesano di Cagliari che è ripartito alla grande grazie a Monsignor Alberti che è stato il promotore della rinascita e lei è stato il braccio operativo di Monsignor Alberti per fare questo archivio veramente eccellente che fa un eccellente un notevole servizio rende notevole servizio agli studiosi. Ecco è vero quello che diceva Alberti dice noi non conosciamo ancora bene gli archivi religiosi della Sardegna dice materiale che potrebbe portarci a riscrivere molte parti della storia sarda. Pienamente d'accordo firmo questa frase al 100% sì perché la storia non si fa con i sé con i ma o con gli Eges Libris no ma si fa con i documenti gli archivi sono degli scrigni preziosissimi di storia religiosa e sociale purtroppo il mondo cattolico sardo oggi come oggi non è cosciente di questo sono molto pochi coloro che veramente invece vediamo dalla base che c'è questo afflusso notevole soprattutto nell'archivio di Cagliari noi in un anno abbiamo da 4 a 5 mila studiosi in questi ultimi anni noi abbiamo accolto più di 60 mila studiosi ascolti c'è dall'otto per mille molte volte arrivano finanziamenti per gli archivi per gli archivi religiosi per rimetterli in ordine in Sardegna tranne la diocesi di Cagliari mi pare la diocesi di Oristano quella di Ales molto poco è stato fatto perché? è una domanda un po' difficilina però la risposta ce l'ha comunque bisognerebbe fare sempre più e meglio perché comprendo che studiare le nostre radici è fondamentale per salvaguardare la memoria storica e proiettarci verso il futuro è un grande impegno io questo lo sto insegnando e predicando tra i giovani studenti tra i futuri sacerdoti della facoltà che non amano molto la cultura sono figli di questo tempo ascolti restando in questo campo lei ha fatto era diciamo nel termine tecnico adesso con visitatore di con monsignor mani da visita pastorale effettuata da monsignor mani alcuni anni fa delle diocii di Caglia aveva il compito di andare a vedere in ogni parrocchia lo stato dell'archivio quindi nelle 133 parrocchie poi le ha anche pubblicato un lavoro si un volume originale originale in tutta Italia qual è lo stato di salute degli archivi della diocii di Caglia gli archivi parrocchiali io posso dire questo che ho trovato una ricchezza sorprendente in piccole parrocchie cioè l'entità documentaria di quegli archivi però purtroppo in tantissime parrocchie giacciono inesplorati talvolta in stato di pericolo o per l'umidità e per le muffe o anche perché certo materiale può essere facilmente rubato sono state date delle precise indicazioni adesso bisognerebbe vedere se i parroci hanno realmente però la diocese di Cagliari ha degli archivi e delle biblioteche storiche notevoli che bisognerebbe valorizzare assai di più lei ha fatto organizzato qualche corso nella facoltà teologica di archivistica e diplomatica mi pare archivistica ecclesiastica dice i giovani non amano studiare questa materia che cosa si può fare ecco io sono predicatore del deserto perché ripeto anche facoltà di teologia guardate che questi ragazzi dopo due o tre anni che sono sacerdoti diventano responsabili di archivi notevoli parroci di parrocchie di 4-5 mila abitanti che hanno ereditato bisogna che abbiano gli strumenti però qualche collega dice ma l'archivistica non è una materia teologica non so il ragionamento io giustamente mi ribello perché dico certo non è teologia ma è una materia propedeutica alla teologia è una materia di pastorale per cui questi ragazzi devono essere preparati ed educati ad essere dei gestori dei responsabili di un patrimonio comune che non è solo della chiesa ma che è della comunità e della società ma sono un profeta inascoltato ascolti professore mi puoi dire questi 120 anni di storia della chiesa gli ultimi 120 anni di storia che idea si è fatto è una bella storia è una storia complessa è una storia di una chiesa in crescita è una storia di una chiesa seduta faccio un giudizio sintetico se è possibile sì dunque noi abbiamo un handicap molto grosso in sardegna abbiamo avuto troppe dominazioni se noi togliamo il periodo nuragico il periodo giudicale di storia nostra autoctona tutto il resto è una una colonizzazione anche oggi siamo colonizzati per cui il sardo per sua natura non è non alza la testa preferisce subire per cui diciamo che la storia della chiesa della società sarda è una storia di vinti ma non vuol dire non lo dico nel senso che questo ci abbia calpestato totalmente perché ci sono nella nostra storia delle potenzialità enormi ecco all'inizio ricordavamo gli ordini religiosi ricordavamo la santità noi abbiamo delle caratteristiche nostre autoctone che sono splendide nonostante il carattere psicologico dei sardi sia un carattere con la testa bassa per esempio nella facoltà di teologia come mai non si esprimono teologi all'altezza dei tempi ci sono delle precise cause e quali sono queste cause bisogna ricercarle più di questo non posso dire l'ultima domanda ecco secondo lei quali sono a livello di storia della chiesa di pastorale anche storia della pastorale quali sono i campi che la chiesa i prossimi anni dovrebbe esplorare cioè i nuovi orizzonti che lei vede da storico prossimi venturi per la chiesa sarda secondo il mio modo di vedere bisognerebbe riscoprire una riflessione teologica strettamente legata al territorio e alla nostra storia una teologia nostra cosa vuol dire teologia nostra la teologia è unica però con caratteristiche sempre più legate alla nostra storia e questa teologia dovrebbe avere caratteristiche antropologiche l'uomo nel tempo l'uomo anche dinamico la tradizione per sua natura non è fissista io dico sempre ai miei alunni una frase che mi sta estremamente a cuore vocus temporis vocus dei la voce del tempo noi dobbiamo capire il divenire storico se no siamo persone fuori dal dinamismo e allora una teologia che antropologicamente capisca l'uomo in questo contesto storico di città secolarizzata ecco e così via anche altri anche altri settori a me sta molto molto a cuore il discorso che non si può fare teologia senza storia per cui la conoscenza storica è propedeutica alla teologia teologia e storica e storia devono camminare insieme sono tutte piste che da approfondire ecco amici ascoltatori e telespettatori ringraziamo il signor Tonino Cavizzoso professore di storia della chiesa pontificio a facoltà teologica uno dei maggiori storici della chiesa della società sarda di questi ultimi trent'anni ci ha parlato di tante cose ecco che ci hanno così ci hanno fatto intravedere quella che è la storia della Sardegna delle grandi personalità che noi abbiamo avuto pur essendo un'isola ma ci ha aperto anche piste di lavoro che ci portano a scenari futuri molto interessanti grazie Monsignore grazie a lei e ai nostri telespettatori arrivederci alla prossima settimana grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti